Il treno Ralliet 1 3 2 di Vidi, delle ore 11 e 42, proveniente da Venezia Santa Lucia e diretto a Viena Uthbanov, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Ralliet 1 3 2 di Vidi, delle ore 11 e 44, per Viena Uthbanov, è in partenza dal binario 1. Il treno Ralliet 1 3 di Vidi, delle ore 11 e 43, per Viena Uthbanov, è in partenza dal binario 4. Il treno Ralliet 1 3 3 di Vidi, delle ore 11 e 37, proveniente da Vidi, è in partenza dal binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Ralliet 1 3 di Vidi, delle ore 12 e 33, per Vidi, è in partenza dal binario 4. Il treno Ralliet 1 3 di Vidi, delle ore 11 e 54, proveniente da Tavisio Bosco Verde, è in arrivo al binario 1, invece che al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Ralliet 1 3 di Vidi, delle ore 11 e 36, per Trieste Centrale, via Cervignano-Aquileia Grado, è in partenza dal binario 7. Ferma a Palmanova, Cervignano-Aquileia Grado, Trieste Airport, Monfalcone. Il treno Ralliet 1 3 di Vidi, delle ore 11 e 35, per Caglia, è in partenza dal binario 8. Ferma in tutte le stazioni. Il treno Ralliet 1 3 di Vidi, delle ore 11 e 35, per Caglia, è in partenza dal binario 8. Ferma in tutte le stazioni. Il treno Ralliet 1 3 di Vidi, delle ore 11 e 36, per Caglia, è in partenza dal binario 3, invece che dal binario 5. Ferma in tutte le stazioni. Il treno Ralliet 1 3 di Vidi, proveniente da Pietro Lufano, è in partenza da Venezia Santa Lucia, delle ore 11 e 38, e è in partenza dal binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla Lufano, è in partenza dal binario 4. Il treno Ralliet 1 3 di Vidi, delle ore 11 e 54, è in partenza dal binario 4, invece che dal binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Cornos, Gorizia Centrale, Sagrado, Monfalcone. Il treno regionale veloce 3882, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 12 e 09, è in arrivo al binario 6. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Fermato, Troipo, Casarsa, Pordenone, Sacile, Conegliano, Treviso Centrale, Monliano Vento, Venezia Mestre. Il treno Ralliet 1 3 di Vidi, 5, 9, 4, di Trenitalia, proveniente da Trieste Centrale, è diretto a Roma Termini, delle ore 13 e 07, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Fermata, Fermata, Tisanna Lignano di Pione, Porto Croaro, Caorle, Sanzonati Piaze, Venezia Mestre, Padua, Monsefice, Romico, Ferrara, Bologna Centrale, Prado Centrale, Firenze di Previ, Firenze Camponate, Arezzo, Terrotola, Coltuna, Chiusi, Piacciano Terme, Orgirezzo, Orfe. Carozze dalla 1 alla 3 testa al treno, dalla 4 alla 5 centro treno, dalla 6 alla 8 coda treno.